Allora, potete, e dall'abbaiare di Carla che dà logo alle mie storie, siamo negli studi di Radio Amore, ci tenevo a fare i complimenti, questa volta dobbiamo fare i complimenti per non uno, bensì due premi, ovviamente sto parlando del premio come miglior speaker italiano di radio regionali, quindi complimenti a Francesco Palmieri che poi è un mio amico, insomma, nonché whatsapparo, oggi si dice così, insomma, quindi Francesco, complimenti in bocca al lupo, speriamo che sia il primo di una lunga serie, io non so sicuro, però ovviamente l'augurio va fatto, e poi niente di meno che miglior radio interregionale, scusate ma il flash mi fa leggere pure male, l'augurio stavolta non si fa solo a Francesco ma a tutto lo staff che ha la dirigenza di Radio Amore, quindi io non solo faccio i complimenti, ma sono stato onorato di essere ospite, spero che questo sia un bel ricordo, e per me, così come per voi. A questo punto ci vuole un applauso.